Il Lecco, squadra militante nell'attuale Serie B, comunica di aver affidato in dato odierna la conduzione tecnica della prima squadra a mister Emiliano Bonazzoli. Confermato l'allenatore in seconda, mister Andrea Malgrati, confermati come collaboratore tecnico Francesco Nelcinini, come preparatore atletico Filippo Brambilla, come preparatore dei portieri Alessio Locatelli e come match analzi Riccardo Nobili. Il mister sarà presentato alla stampa domani venerdì 13 ottobre alle ore 17. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!